Ciao, creatura. Benvenuta in questo nuovo video A-S-M-L. Allora, visto che ricevo un sacco di messaggi in direct su Instagram riguardanti i cataloghi Lidl, spiego qui sperando di fare chiarezza su questa tipologia di video. Mi chiedete spesso perché non faccio più questi video. Allora, li faccio soltanto quando ci sono i cataloghi a tema, tipo questo McKennie di American Way. Diciamo che in questo periodo ci sono stati cataloghi a tema, però c'erano solo tipo due pagine, c'erano tipo due pagine, basta, di offerte e non valeva un video, a mio parere, un video A-S-M-L perché è troppo breve. Quindi qualcuno aveva suggerito di fare delle storie con il cataloghi, cataloghi Lidl a-S-M-L su Instagram e io infatti ho iniziato a fare queste storie. però lì mi veniva ancora di più bombardato l'Instagram Direct di messaggi riguardanti questi video su YouTube. quindi ok farli se li volete indipendentemente dalla durata del video e dalla... purtroppo succede tipo io oggi ne andrò a fare uno, però potrebbe succedere che le cose adesso qua American Way potrebbero essere le stesse che ci sono state, non lo so, l'anno scorso che American Way o 8-8 mesi fa, quindi mi dispiace se risulterà ripetitivo con i prodotti uguali all'altra volta, speriamo ce ne siano di nuovi ma non sono molto sicuro che possa accadere. Mi scuso anche se eventualmente dovessi vedere perché ce ne sono, anche se ho abbassato il ruolo quello appiccicoso, peli di Sam. Ho messo questa diciamo tovaglia bianca per avere dei video più neutri, dato che la tovaglia che avevo messo in precedenza che è sotto plastificata che era stata messa per le creazioni in resina per non rovinare il tavolo era troppo colorata e sparaflesciosa per un video ASMR a mio parere. quindi ho messo questo telo bianco, ma se non ho messo il telo bianco è diventata la mia nuova cuccia e mi ha appiccicato tutti i peli ovunque e quindi ho provato a tirarli via più che potevo ma vabbè mi ci devo mettere di più impegno probabilmente. comunque andiamo ormai basta premesso andiamo al video quasi quasi tengo il microfono in mano anche se ha meno suoni con le mani non importa, allora intanto a voi piace la mia voce mi provate che ci sia la mia voce queste sono offerte valide dal 24 6 al 36 cioè dal 24 giugno al 30 giugno e abbiamo appunto una delle mie settimane offerte preferite i temi preferiti mckennedy american way scopre il sogno americano e qui subito troviamo 6 american style pancakes a 1,49 euro e vai le salse a 2 allora qui ci sono panini USA panini pronti in stile americano in 3 diverse varianti ci sono 2 hot dogs 2 cheeseburger e 2 classic burger a 1,79 euro spero che stai vedendo poi qui c'è ok allora salse barbecue irresistibili salse per condire carne o farcire panini in diverse varianti tutte da provare a 1,29 euro mi piacciono tutte qui c'è classic whisky e honey and smoke è buonissimo anche questa mi sa che io adesso mi ne ho presa questa whisky però non di questa marca però l'avevo presa sempre a Lidl prenderei quasi quasi honey and smoke non lo so perché mi resta sapere perché io la duro in tutte le forme però se si può anche scegliere una variante è fantastico ok ci sono fette di pancetta fumigata al miele buone 2,49 euro formaggio cuta a fette 1,79 euro pancetta 0,99 american snack box il kit completo per una serata a casa come le fast food 3,49 euro ci sono ho anelli di cipolla sì allora sono mozzarella sticks chili cheese nuggets e onion rings che sono le mie preferite e c'è anche una salsa chili dip buonissima pizze farcite no? ti promettono di essere super mega abbondanti di condimento ma quelle che ho provato io non lo erano per nulla 1,99 euro quindi queste già bocciate se ho fatto la crozza sopra poi bocconcini di pollo croccanti che buoni spicy style e southern style questo spicy ho capito ma questo non ho capito che style è sì ho capito la traduzione ma non avevo idea del gusto 4,99 euro poi buone queste buonissime patate tagliate aspirate speziate queste le voglio prendere non so se ci sono state anche ci sono... non stai vedendo? non so se c'erano anche le altre volte io non credo di averle mai prese le avevo prese solo al mcdonald a 1,49 euro queste le provo dai speriamo che ci siano cose nuove poi onion rings buone a 1,29 euro cipolle in panatura croccante croccante tortillas adesso 2,49 euro abbiamo wrap chicken salsa wrap pepper beef e wrap vecchi falafel poi feuster affumicati di carne stumina 1,99 euro tornano le nostre amiche strisce di carne pofine sticcata che sono buone ma costano troppo ce ne sono troppo poche per il prezzo 1,29 euro cipollini 1,19 schifo senape 0,99 questi adorati da mio padre devo comprarli le ho aspettati tanto arachidi ricoperti sono quelle ricoperti con i gusti il suo preferito è gusto hamburger se no questo dovrebbe essere gusto salsa barbecue gusto barbecue e questo è tipo sour cream panna acida sono tutti e tre buonissimi ma il più buono credo sia quello è gusto hamburger perché sa proprio da hamburger tipo da un euro del mcdonald sarò 79 poi c'è condimento per insalate salse perfette per accompagnare insalate o piatti a base di carne sarò 99 praticamente per rendere le tue insalate da sane a piccaminose poi burro di arachidi a 3,29 euro io ti consiglio quello crunchy che è quello con il tappo rosso se non sbaglio si li ho provati entrambi ma quello crunchy è molto più buono cioè il gusto è quello però è più masticabile l'altro mi basta troppo la bocca snack snack base di mais queste sono la droga 0,99 allora di queste qua l'avrò già detto in un altro video ma di queste qui prendi quelle al curry barbecue e di queste oh cacchio non mi ricordo credo quelle con le costine non mi ricordo però so che sono stra buone poi snack base di patate queste credo siano nuovi e i gusti sono chili cheese passo a piano chili cheese chili lime e stick onion proverei stick onion a 1,19 euro cipolla rosto 0,89 pane per sandwich che io lo prendo sempre sta in offerta lo prendo ci faccio sempre i sandwich o i toast giganti a 0,79 poi sciroppo d'acero immancabile da mettere sui pancake a 3,79 euro preparato per pancake a 1,49 euro questa è nuova oddio questa è da provare assolutamente è finalmente qualcosa di nuovo fammi sapere nei commenti se in realtà c'era già stata bevanda stile americano 0,89 allora abbiamo milk ah è latte tipo latte cioccolato però con il gusto cookie e con il gusto brownie li prenderò entrambi voglio vedere che cosa cambia di gusto perché sono tutti e due tipo biscotti al cioccolato anche se i brownie è più una torta però cosa cambia di gusto capire bevanda a base di succo che non stai ridendo e di mirtillo rosso a 1,29 euro muesli croccante forse anche questo nuovo a 2,39 euro fa voglia effettivamente barbecue marshmallow a 1,29 euro e popcorn caramellati a 1,99 euro snack a base di mais a raggedy a 1,79 euro in realtà questi ci sono sempre non di questa marca ma ci sono sempre a Lidl e poi la pizza toff a 0,79 euro ma non te la consiglio sinceramente poi yogurt stile americano questi sono buonissimi te li consiglio a 0,49 hanno un sacco di gusti però non sono nuovi questo è nuovo gelati al gusto arachidi a 1,49 euro beans butter mini muffin a 1,49 euro country cookies a 1,19 euro che sono sempre quelli questo è nuovo arachidi confettati ricoperte che sono praticamente MMS giusto? si però qua si chiamano rainbow trick 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 come si chiamano? vabbè sicuramente ho detto male 0,99 oh qua cosa abbiamo la tovaglia americana oddio con la bandierina pure perché così e anche il cuscino per la sedia no non me lo comprendo mai sinceramente ecco niente poi la roba americana è finita e si passa qua di uno sempre nostra solita oh mio dio la macchina nostra solita occhiata veloce alle cose che ci attirano di più tipo la macchina per pop corn la friggitrice ad aia calda vabbè vabbè io non ci credo piastra per vaff waffle o donut la macchina per lo zucchero affilato guarda 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 la voglio 29,99 euro poi c'è tritatrut 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 è stato smerre tritatut 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 letterico rullatore borraggio stampo troppo rullatore versioni borsa frigo della coca cola bellissima che non stai vedendo scommetto no è un pochino set contenitori da cucina rullatore qua ci sono le offerte da lunedì 24 mercoledì 26 andiamo avanti veloce non ci interessa ti dico solo se c'è qualcosa di particolare che non puoi assolutamente perdere beh questa pizza con olive e salsiccia di calabria top non è mica male questa la vedi? no questa qui è un quadratura un po' strana sai spero di non darti fastidio carne di pollo garantita allevamenti controllati certificati dal nostro assortimento offerte settimanali da lunedì 24 domenica 30 06 creme solari cose pulite e ordine in tutta la casa giubbetti 27 06 quindi detergenti varie spugne poi c'è il speciale giardino queste luci sono molto belle perché hanno luci decorative led al 14 099 che belle insomma non ho un giardino quindi no però sono belle lampade da pavimento d'energia sola e queste qui d'energia sola sono molto belle perché non 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 necessitano appunto di elettricità quindi non consumano niente ma non propria piscina perlettino strada bello questo box universale da giardino questi scrigni piacciono tantissimo soprattutto quelli vitrash che vedo ai mercatini sembrano gli scrigni del tesoro dei pirati poi abbiamo un solito pollice verde lavando che bello il lilium orientale guarda che bello bellissimo belle piante surte e belle compagni di viaggio borsello, marsupio per gli uomini per le donne, per tutti pulito e ordinato in una passata ogni volta che vedo un ventilatore mi viene in mente step 89 ma lasciamo perdere lampada in 7G da led da presa la voglia 5,99 stendi biancheri stendibile stendi tappetino copri lavatricio tappetini per laverlo due pezzi poi accessori 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 per la pulizia set palette scopino wow direzione nuove avventure che bello ho sentito mi piace abbiamo i sandali da trekking poi i tavolino sedia piccola da campeccio materassino da campeccio capeccio zaino da trekking ogni volta che sento la parola trekking mi viene in mente il signore degli anelli i clerks clerks 2 guardate entrambi occhiali sport coltellino tascabile oh bello questo 4,99 oh creativi organizzati mi piace anche questo distruggi documenti lavagna magnetica cornice magnetica autoadesiva power bank che belli queste prese multiple se le trovavo prima mi sarei presa questa qua sia nera che verde la vedi qua si ok poi cartucce multipack per stampanti epson e cartucce multipack per stampanti hp che ho l'hp blocco spirale condivisori che belli blocco per appunti risno di carta nastro da pacchi tre pezzi accessori per orvigio timbro per auto composizione o tempera matita elettrica non voglio anche questo così oh no è già finito purtroppo super weekend offerte valide da sabato 29 a domenica 30 giugno e vabbè spero che questo video ti sia stato utile ti abbiamo fatto rilassare e noi ci vediamo con un prossimo video martedì ciao ciao criatura ciao criatura Grazie.